Allora, siamo arrivati alla stazione più vicina alla Baia di Sydney e stiamo scendendo perché qui i treni praticamente non hanno passaggio a livello sono o sopra o sotto le strade ed è molto comodo possiamo tirare fuori i biglietti per uscire dalla stazione perché è come il metro per uscire bisogna passare i tornelli andremo verso il Conservatorio, credo Alla prossima